Vivo a New York e negli Stati Uniti da tantissimi anni. Quando sono arrivato mi ricordo che era abbastanza difficile all'inizio trovare i prodotti italiani tipici e originali, tipo il parmigiano reggiano, l'olio d'oliva, la pasta. Poi piano piano invece negli ultimi anni questi prodotti si sono molto diffusi ed è diventato abbastanza frequente trovarli anche in ricette, in ristoranti, su piatti non decisamente italiani. Sicuramente l'introduzione dei dazzi farà sì che per qualche americano cercheranno delle alternative, certo per me un'alternativa al parmigiano reggiano non esiste, non credo che potrei comunque rinunciarvi, forse ne comprerò meno o forse starò un po' più attento, però non credo sia sostituibile. Sulla pasta, in scaglie, a tocchi, non credo che ci sia qualcos'altro che lo possa rimpiazzare. Mio figlio piccolo per esempio che ha sei anni, l'unico formaggio che mangia ancora oggi è solo il parmigiano reggiano. Grazie a tutti.